oggi siamo a vietri abbiamo parcheggiato vicino il tachimetro perché io non voglio fare un passo in più dopo che ho parcheggiato poi si adesso andiamo a prendere un caffè e poi andiamo in spiaggia andiamo sulla spiaggetta vieni non ti vuoi sporcare i piedini vedi l'aria non si lamenta ora cerchiamo un posto per mettere il telo il primo telo del 2023 mettiamoci qua così facciamo i cuscini con i sassi ti trovi guarda bella sto scavando una buca questo è i vetri sopra e qua i vetri mare bella chiara un po' di relax finalmente aspetta stanno arrivando ah stanno arrivando finito ci siamo spostati oggi che è venerdì 7 e non abbiamo trovato folla nel traffico arrivati a vietri mare abbiamo subito parcheggiato e adesso ci siamo messi sulla sulla spiaggetta e ci godiamo un po' di relax e bambini permettendo i primi passi sulla sabbia cosa? questo lo vedete che sono? sassi rari sono sassi rari anche due sassi rari? eh vado a vedere se stiamo guarda che ceduzza carina è una bongolina andiamo a vedere il mare da vicino dammi la manina andiamo a vedere ti piace? questo? questo è la mamma no vabbè guarda questo mamma è laggiù eccola ci siamo fatti una passeggiatina sul bagno asciuga vedete? Barbara si è dimenticata le scarpe le fanno male i piedini adesso dobbiamo correre perché il sole se n'è andato e dobbiamo mettere i giubbini ci siamo appena seduti per prendere l'insalatona veloce questa è la condizione del tavolo dopo 5 minuti vediamo tra poco come andrà Barbara mi ha ricordato che dobbiamo fare il video alle cose che sono arrivate perché se no io l'avrei fatto a piatto vuoto allora bruschetta al tonno allora bruschetta al tonno insalata con le alici io questa non la posso mangiare perché ho al dente e mi do un amore amore patatine, salumi e affettati e per lei pappa al pomodoro adesso ce ne stiamo andando perché tra poco viene a piovere perché dopo domani è Pasqua e come ogni Pasqua piove e il tempo non è buono quindi se adesso non si è a nuvola come fa a piovere? a Pasqua e noi dobbiamo scappare ciao